cuore in fermento amore impossibili ma sempre con lieto fine è il mondo dell'evasione il mondo delle telenovelas un appuntamento fisso con antena 5 per tutta l'estate in replica happy end e da settembre top model una nuova avvincente avventura d'amore ambientata nel patinato mondo della moda magnani sposa nuovo atelier e showroom a san mignato uscita superstrada firenze pisa livorno oltre 2000 metri quadrati dedicati alla sposa allo sposo e alla cerimonia dal produttore al consumatore gli abiti da sposa più esclusivi confronto la nostra qualità la nostra professionalità e i nostri prezzi rimarrà impiacevolmente impressionata magnani il più grande atelier della toscana dedicato alla sposa sposo e cerimonia a san mignato uscita superstrada firenze pisa livorno ti aspettiamo grazie 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 a tutti